Tra le comunità di Bari e Sanicandro di Bari vi è un rapporto secolare che affonda le sue radici nel periodo normanno, quando gli abitanti sanicandresi ebbero quale santo affidatario San Nicola, Taumaturgo e Vescovo di Mira. Quell'unione oggi si è sigillata ancora di più con la sottoscrizione di un gemellaggio tra le rispettive Proloco cittadine. A firmare il documento d'intesa Rocco De Adeddis, presidente della Proloco del Municipio IV, e Antonietta Racanelli per la Proloco di Sanicandro, La data non è stata scelta a caso, ma è quella del 78esimo anniversario del bombardamento di Sanicandro da parte degli angloamericani, che costò la vita a 85 persone. Le due Proloco collaboreranno in progetti e iniziative tesi a favorire la diffusione di tematiche sociali, culturali, storiche e della tradizione locale. È un gesto bellissimo, quello voluto dalle due Proloco, alle quali partecipo con entusiasmo, perché l'attenzione delle Proloco al territorio, la passione con la quale fanno promozione dei territori e della cultura e della storia di questi territori è una cosa importante e determinante per tutte le attività culturali che si svolgono all'interno di un piccolo comune. Oggi viviamo questa giornata emozionante per far sì che due Proloco si gemellano, al fine di portare avanti un discorso identitario sulla storia del territorio, di questa località. E quindi per quanto tale ritengo che sia importante oggi operare in azioni sinergiche tra una Proloco di una località e un altro comune, ma soprattutto mettere insieme le istituzioni e che inoltre passa avanti verso l'unicità di intenti per la valorizzazione del territorio.